Salve buonasera a tutti, martedì nero per le piazze finanziarie europee con Piazza Affari che praticamente continua a perdere terreno a causa appunto dell'instabilità, della continua a stabilità della situazione politica. Il listino milanese andiamo a vedere però prima di vedere un po' Piazza Affari quello che è successo andiamo a vedere con i Dax che chiude a meno 1,53%, l'Ibex a meno 2,48%, un CAC di Parigi a meno 1,29%, un Fuzzi Londra a meno 1,23% e un Fuzzi Mib che cade a meno 2,57% con lo spread BTB Bund che oggi è superato in muro di 300 punti, base arrivando a 320 punti. Il rendimento del BTB legionale invece è schizzato fino a un picco al 3,40%, ancora più volento invece sta il balzo dei tassi a breve, il biennale è arrivato a 2,72%, su mercati cresce il timore che alle prossime elezioni i partiti populisti possono guadagnare ulteriori consensi. Molto male le banche con sospensioni e ripetizioni durante la seduta odierna, appunto per eccesso e ribasso. Banca Popolare di Milano per di meno 6,7%, seguita da Unicredit, meno 5,6% e UB Banca in calo per al 5%. Mentre invece, nelle ultime notizie, proprio dieci minuti fa, sembra che il professor Cottarelli, sembra che praticamente ha già rinunciato, dalle prime indicazioni, ha già rinunciato appunto alla formazione del governo e quindi si propende per delle elezioni super anticipate. La prima data utile è per il 29 luglio, in quanto praticamente non c'è proprio nessun tipo di tipologia di consenso anche dalle due Camere, dal Senato e dalla Camera dei Deputati per poter appunto avere la fiducia. Bene, nel mese di maggio invece per quanto riguarda le news macroeconomiche di oggi, l'indice di fiducia dei consumatori elaborato dall'Università del Michigan si è attestato a 128 punti. Il dato precedente era risultato pari a 128,7 punti e gli analisti avevano stimato un 128,2 punti. Domani, mercoledì 30 maggio, penultimo giorno del mese di maggio, abbiamo l'1.50 le vendite al dettaglio del Giappone relative al mese di aprile, alle ore 8 le vendite al dettaglio della Germania, poi alle 10 la variazione alla disoccupazione della Germania del mese di maggio ed sempre alle 14.15 un dato molto interessante. Con la variazione dell'occupazione in agricola ADP che sarebbe il dato che va ad anticipare i non fan per oro di dopodomani, poi alle 14.30 abbiamo il PIL del primo trimestre e poi alle ore 16 la banca centrale del Canada con la decisione sui tassi di interesse. Bene, questi sono i miei contatti, Giancarlo tioccio alla teletrade, G.it, contatto Telegram e il link per potersi iscrivere al diretta live. Per qualsiasi cosa potete utilizzare questo link per iscrivere al diretta live oppure per chiedere informazioni come accedere al canale Telegram. Per quanto riguarda l'operatività, quindi siamo al 29 maggio, praticamente oggi con un'altra bellissima giornata di cui abbiamo, per chi ha sfruttato le varie indicazioni all'interno della chat Telegram, siamo andati selo su diversi major sul euro-dollaro, anche su diversi cross dove selo sull'euro e sullo yen e abbiamo chiuso la giornata a 415 punti con uno score al momento del mese di maggio che arriviamo a 4.221 punti di profitto. Nei 4.221 ricordo che sono compresi anche tutti i vari stop loss. Bene, andiamo a vedere oggi come è andata la giornata, quindi è una giornata molto interessante, vedete quindi abbiamo, andiamo a vedere, partiamo da sterlina dollaro della Nuova Zelanda, un'operazione che è andata, eravamo selo in stop loss a meno 60 punti, questi sono i 60 punti di stop loss, poi la giornata è partita con il primo target, l'abbiamo avuto subito durante la sessione mattutina, durante proprio la diretta live mattutina alle 8.30 con 75 punti di profitto, poi oro, il gold buy 60 punti, adesso mi sono girato e mi sono messo sel, quindi siamo a profitto in questo momento, poi le uniche operazioni che purtroppo sono andate male sono i due ordini buy su New Zealand Yen, meno 150, meno 75, ma praticamente che sono stati abbondantemente recuperati da diversi ordini sell, prima su euro dollaro australiano, tutte chiuse prima del recupero da parte dell'euro, quindi euro dollaro australiano, 110 punti, poi euro yen sempre sell, un'altra bella operazione, 140 punti, eccola qui, 140 punti, poi dopo euro yen, sterlina yen, un'altra grande operazione di 150 punti, eccola qui, poi abbiamo euro cad 50 punti, eccola qui, 50 punti, poi abbiamo usdn, lo chiusa ad usdn, chiusa all'operazione a 60 punti, e sterlina franco, quindi sterlina franco a 55 punti, sempre sell, sterlina franco 55 punti, sempre sell, adesso mi sono girato buy, sto in perdita, però vediamo un attimo più tardi che cosa succede, e poi oltre ai 415 punti si aggiungono gli altri 55 punti su euro dollaro, l'operazione che ho chiusa praticamente a 55 punti, quindi praticamente 415 più 55, abbiamo circa 470 punti di profitto nella giornata odierna. Bene, per quanto riguarda invece altre operazioni, come vi dicevo prima, ho inserito un ordine direttamente, un ordine buy a mercato su euro new zealand, eccola qui, euro new zealand sul test di 1.66913, in questo momento c'è stato un altro rimbalzo, e stiamo insomma intorno alla parità, poi abbiamo l'oro, che l'abbiamo visto prima, vedete qui abbiamo due target, dove praticamente su euro new zealand, abbiamo anche quindi un pattern armonico, eccolo qui, lo vado a disegnare manualmente, che si è formato proprio il punto D, si è formato precisamente, proprio alla fine, al test della zona di demand, che già è stata testata in passato, e dove abbiamo assistito, eccolo qua, abbiamo assistito, praticamente l'ultima volta che siamo arrivati su questa zona, abbiamo assistito in pratica ad una movimentazione rialzista, eccolo qua, qui abbiamo una zona di demand, eccolo qui, vedete, quindi molto probabilmente potrebbe aversi anche un'altra, ecco, ho messo due target, e quindi aspettiamo appunto la movimentazione che si alimenti ancora di più, la forza rialzista. Bene, per stasera è tutto, vi ringrazio per l'attenzione, e ci aggiorniamo quindi domani mattina con la diretta live delle ore 8.30, grazie mille e buonasera da tutti.